nella serata di domenica 29 settembre 2019 nella parrocchia di santa maria dell'arco a villaricca si è conclusa la significativa kermes organizzata dal presidente della proloco armando de rosa per celebrare la figura del grandissimo cantore sergio bruni il maestro nativo di villaricca e profondamente legato alle sue radici illustre ambasciatore della canzone classica napoletana in tutto il mondo è ricordato per le sue doti canori uniche figlie di uno studio severo e di una dote che molti hanno amato definire dono di dio basti pensare che il grande direttore d'orchestra riccardo muti lo ricorda così ai miei allievi dico che per imparare il canto bisogna studiare sergio bruni io sono un suo grande fan lui è stato il più grande celebri le sue partecipazioni a san remo grandissime indimenticabili i successi al festival di napoli bruni è stato l'artista che ha inciso più canzoni del repertorio classico napoletano più di 700 con la sua voce incredibilmente potente è riuscito a cesellare tratti di una città in tutti i suoi aspetti più reconditi cantando l'amore ma anche la rivolta popolare delle quattro giornate di napoli grazie ai versi del poeta e amico salvatore palumba bruni fu un eroe di quell'evento che gli procurò ferite che lo accompagnarono per tutta la vita il presidente del rosa orgoglioso e stancabile portavoce della figura dell'illustre cantore da sempre prodigo nell'organizzare eventi e manifestazioni dall'alto profilo culturale in sua memoria quest'anno ha saputo creare una sinergia speciale nei villaricchesi e tre cultori della voce del maestro organizzando una rassegna di eventi unica nel suo genere la manifestazione aspettando il 2021 anno in cui ricorrerà il centenario della nascita di bruni avuto inizio il giorno 20 settembre con l'apertura della mostra multimediale il cantore di villaricca un prezioso ensemble di cimeli sulla vita del maestro quali foto filmati inediti e vinili introvabili che fino ad oggi 30 settembre saranno fruibili al pubblico nella sala sergio bruni del palazzo di città di villaricca il lavoro dell'istancabile presidente de rosa ha fatto sì che questo pezzo di storia di villaricca venisse trasmesso in modo tangibile alle nuove generazioni organizzando visite degli studenti delle scuole ad anegre giancarlo siani che hanno apprezzato con gioia un patrimonio che probabilmente echeggiava tra i ricordi dei nonni ma che senza iniziative di questo tipo rischierebbe di perdersi a seguito dell'apertura della manifestazione la conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo tutta colpa della luna viaggio d'amore di e con massimiliano gallo con uno speciale omaggio a sergio bruni presenti il sindaco di villaricca l'appassionata sostenitrice dell'iniziativa maria rosaria punzo il presidente della prologo di villaricca armando de rosa raffaele cacciapuoti consigliere della città metropolitana di napoli eloisa di rosa assessore all'identità e al palazzo di città di villaricca il parroco della parrocchia santa maria dell'arco gaetano bianco dove in bella mostra la fonte battesimale dove fu tenuto a battissimo guglielmo chianese in arte sergio bruni la madrina dell'evento è stata adriana bruni figlia del maestro e anch'essa ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo molto amata in cina e in egitto che ha ricordato con aneddoti la frequentazione di sergio bruni a casa gallo e viceversa lo spettacolo è stato messo in scena la sera del 21 settembre nell'anfiteatro del palazzo di città di villaricca gremito di un pubblico entusiasta che ha molto applaudito l'elegante performance tutta colpa della luna un viaggio alla scoperta delle sfaccettature dell'amore elegante coinvolgente che si è concluso con l'omaggio a sergio bruni e la meravigliosa interpretazione della figlia adriana bruni nell'emblematico brano carmela il momento in cui tutto l'anfiteatro ha cantato all'unisono il grande successo del maestro in presenza della famiglia bruni al completo ha toccato le corde più profonde dell'animo dei villaricchisi suscitando in loro un rinnovato senso di appartenenza alla città e al suo illustre personaggio ed eleggendo carmela come il nuovo inno di villaricca una serrata davvero emozionante che ha fatto trapelare il lavoro incessante e certosino quello del presidente armando de rosa capace di trasmettere la sua passione contagiosa per il maestro coinvolgendo un pubblico che diventa sempre più numeroso ed appassionato nella serata di chiusura della kermess tenutasi il giorno 29 settembre nella parrocchia di sant'america dell'arco de rosa ha voluto sottolineare l'importanza di divulgare soprattutto alle nuove generazioni un patrimonio così immenso e la sua volontà di creare sinergie con il territorio e la comunità affinché una tradizione talmente preziosa non venga persa i cittadini di villaricca hanno risposto con entusiasmo al suo richiamo accogliendo con grande applauso prima l'esibizione dell'associazione culturale limitarte un intenso percorso nella canzone classica napoletana che ha riscosso un successo incredibile ed è pulcinella salvatore totaro dei guarracini e poi l'esibizione dell'allievo devoto mimmo angrisano che ha dovuto contenere l'entusiasmo della platea concedendo ben due bis uno spettacolo davvero commomente condotto dalla bravissima angela panico a cui erano presenti i nipoti del maestro bruni eve francesco che hanno accolto con commozione il grande lavoro portato avanti dal presidente de rosa rendendosi disponibili ad aiutarlo nell'organizzazione dei prossimi eventi dedicati all'amatissimo nonno un lavoro indispensabile sottolineato con intelligenza impegno anche dalla preside all'istituto adanegri di villaricca caterina pennacchio che si è complimentata per l'iniziativa e resa disponibile a portare avanti il lavoro già iniziato per la tutela del patrimonio che ha lasciato il maestro sergio bruni partendo dalla scuola un affettuoso riconoscimento anche alla consigliera del conservatorio san pietro a maiella e referente della scuola gian carlosiani carla ceccarelli preziosa e pregnante la presenza della consigliera anna maria porcelli memoria storica di tutte le iniziative legate al maestro e portavoce di questa grande opera culturale trenata da de rosa aspettando il 2021 è stata dunque un magnifico incubatore di tè che ha generato sinergie nuove tra il territorio e le istituzioni raccogliendo la comunità intorno al suo cittadino e accogliendo l'invito del parroco donghetano di inserire le celebrazioni su sergio bruni nell'ambito delle festività patronali di villaricca per il grande lustro che il maestro ha portato al paese un'iniziativa dall'altro profilo culturale e di importanza fondamentale per la memoria del patrimonio canoro di villaricca della città di napoli e della campagna tutta